ben tornati alla resegna stampa del giorno sabato 20 di febbraio 2021 siete su fano tv canale 17 del digitale terrestre in tutta la regione Marche al mattino alle 7 abbiamo l'appuntamento consueto con la lettura dei titoli dei giornali le pagine che abbiamo selezionato per voi e allora come facciamo sempre ogni mattina andiamo a vedere prima il santo del giorno e uno sguardo anche al tempo oggi è Santa Giacinta Marto il sole sorgerà tra un minuto e tramonterà le 17 e 47 non c'è molto da dire per quanto riguarda il tempo cari telespettatori di fano tv oggi avremo una giornata di sole sarà poco nuvolosa le temperature sono in lieve aumento anche per domani domenica 21 ancora cielo sereno o poco nuvoloso attenzione dopo il tramonto alla formazione di foschie e banchi di nebbia sulla fascia costiere basso collinare lunedì la settimana si apre ancora con cielo sereno o poco nuvoloso le temperature massime sono stazionarie un po' di foschia un po' di nebbia ma tutto sommato insomma il tempo sarà buono così come sarà buono anche la prossima settimana allora sospiro di sollievo perché le marche sono in giallo eccetto la provincia di Ancona che resta blindata per un po' ieri si è temuto visto come sono andate le cose attorno a noi con l'Emilia Romagna che è diventata arancione l'Umbria addirittura rossa l'Abruzzo lo stesso arancione insomma siamo circondati su tutti i fronti le marche resistono ancora una settimana andiamo a vedere i titoli allora il resto del Carlino l'edizione pesarese titolo d'apertura marche gialle pericolo scampato evitata la zona arancione nonostante il caso Ancona ma crescono i ricoveri e i contagi a scuola e a casa foto notizia oggi è anche il giorno dei vaccini diamo l'esempio ai giovani vaccini agli over 80 nonno Giuseppe tra i primissimi un dovere dice per noi tosse e febbre il vescovo Trasarti ricoverato al San Salvatore di Fano caso frontone boom di positivi via lo screening nelle classi domande risposte dose agli anziani si comincia alle 8 di questa mattina tra poco ecco tutto ciò che c'è da sapere e poi sotto di taglio basso ma la cronaca marioana tre serre nel casolare blitz delle volanti in strada acqua buona arrestato un uomo di pesero e uno di gradara e la disavventura di un 75enne con lo scafo si rovescia paura la baia si è buttato in mare ha rischiato l'ipotermia da chi da chiarire però le cause del naufragio sul corriere adriatico sempre edizione di pesero Marche in giallo è tutto vero restano aperti bar e ristoranti acquaroli ora massima attenzione alle regole anticontagio per Ancone provincia un'altra settimana blindata se i dati peggiorano però chiusura per i comuni tutto pronto per il V-Day il vaccino task force per gli over 80 richiamo da avallare invece rischiamo di avallare una maturità limitata la maturità 2021 ancora con la pandemia è ancora un esame senza prove scritte dunque per gli studenti ci sarà solo da sostenere una prova orale i dirigenti attendono ora le ordinanze ministeriali che potrebbero essere rese note già dalla settimana entrante dopo il passaggio al consiglio superiore dell'istruzione ma non tutti i dirigenti scolastici si trovano d'accordo su questa scelta di far fare appunto gli esami soltanto orali all'accio abusivi invece per coltivare la droga in serra la cronaca da pesero il comune prepara il galateo social per il personale e obiettivo casellino la regione supera 4 anni di inerzia ancora dalla prima del corriere fondi e green l'accelerata di marche multiservizi presentato il programma e poi un dossier sviluppo rurale così la regione cerca il rilancio nelle pagine interne cominciamo dunque a vedere le pagine che si occupano della questione pandemia nella nostra regione le marche ancora in giallo resta blindato l'anconetano se serve chiudo i comuni dice acquaroli lunedì avremo tutti i dati di queste due settimane valutiamo i contagi non è esclusa l'ipotesi di isolare i centri ad altro rischio ma da qui alla fine del mese verrà comunque prorogata l'ordinanza della regione che scade stanotte a mezzanotte e che chiude i confini di tutto il territorio anconetano per evitare che i contagi possano essere esportati nelle province che attualmente segnalano un contenimento della corsa del virus stiamo facendo un super lavoro di tracciamento ha detto ancora acquaroli migliaia di tamponi al giorno per fare in modo che ogni caso positivo venga circoscritto e monitorato le marche le marche come dicevamo sono circondate da regioni che nel frattempo hanno cambiato colore per l'aumento dei contagi parliamo dell'Emilia Romagna dell'Abruzzo che sono diventate ragione arancione e addirittura come dicevo appunto l'Umbria che è diventata rossa il titolo invece del resto del Carlino vince il giallo ma i confini restano chiusi scongiurata la zona arancione acquaroli massima attenzione fino a domenica prossima la provincia provincia di Ancona sarà blindata intanto a Filottrano un altro comune boom di casi triplicati l'analisi dei contagi e il raffronto con una settimana fa una settimana fa cresce anche il numero dei contagi a Senigallia da Pesero invece a pagina 3 sospiro di sollievo restiamo gialli occhio e qui facciamo attenzione occhio ai contagi a scuola e in casa nessuna nuova restrizione nelle marche nonostante il caso Ancona acquaroli ma facciamo dice attenzione un quinto un quinto dei nuovi positivi deriva dai contatti domestici e dal coinvolgimento degli studenti questo è il dato importante e lo affronteremo meglio tra poco con un altro articolo del resto dice la scuola grazie alle varianti è la nuova prateria su cui il virus sembra avere trovato terreno fertile sono 236 le classi poste in quarantena in tutta la regione Marche dalle autorità sanitarie intanto oggi a Roma c'è un omaggio ai medici morti a causa del covid il presidente dell'ordine peserese Paolo Maria Battistini dice andremo a Roma nella sede romana della federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri per partecipare a questa cerimonia solenne e servirà per commemorare gli oltre 300 medici che sono morti in seguito alla pandemia dunque per quanto riguarda pesero dice Paolo Battistini ricorderemo in particolare il dottor Marcello Ugolini a lungo direttore pneumologo a pesero e il dottor Carlo Amodio l'amico di tutti medici e pazienti ex primario radiologo della prima Fossombrone poi a Fano e stimatissimo ecografista Allora sulla pagina 4 invece del resto del Carlino pagina nazionale vi segnalo questo articolo che un po' sembra contrastare un po' fare come dire stridere nel senso che il titolo è State a casa rischio alto per le varianti gli scienziati dicono subito invocano subito misure più rigide questo a seguito anche del report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità nel quale si evince che i dati indicano un aumento dei casi la cabina di regia sottolinea bisogna agire in modo aggressivo è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi ora io credo che la cosa più importante in realtà di tutto questo sia questa frase qua si ricorda che è obbligatorio quindi non è una scelta adottare comportamenti individuali rigorosi ora quando si parla di comportamenti individuali rigorosi è chiaro che si riferisce a ciascuno di noi me per primo ognuno di noi deve fare la sua parte perché chiaramente il virus potesse parlare ci direbbe continuate, continuate a stare insieme, continuate ad abbracciarvi, continuate a mangiare insieme senza problemi, senza mascherine, fate tutto come se io non ci fossi questo perché lui vuole sopravvivere il virus noi invece che a nostra volta vogliamo vivere e sopravvivere invece dobbiamo fare l'esatto contrario di quello che ci suggerisce il virus cioè stare distanti anche in casa, anche dentro casa, anche quando siamo a tavola purtroppo quando non ci sono gli spazi, lo dico anche per esperienza personale a me capita spesso di mangiare in un'altra stanza oppure direttamente sul divano perché? Perché bisogna stare distanti i bambini vanno a scuola, i giovani vanno a scuola, poi rientrano e sono fonte di contagio anche se idealmente ci sentiamo tutti al sicuro perché un nostro familiare non ci farebbe mai del male così la pensiamo a livello inconscio, sub inconscio perché un figlio dovrebbe contagiarti, contagiarci o contagiarti sta bene, lo vedi in salute, in realtà potrebbe portare tranquillamente il virus ed essere asintomatico e quindi ecco, dobbiamo essere, e qui le tre righe sono fondamentali è obbligatorio, le rileggiamo, obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e tra gli comportamenti rigorosi da attuare anche in casa è quello di stare distanti anche in famiglia bisogna stare lontani mangiare uno da una parte, uno dall'altro evitare abbracci, evitare, anche se poi è difficile perché diventa una cosa stressante alla fine delle giornate diventa un lavoro Over 80 si parte, allora oggi è il V-Day, il vaccino day oltre 15.000 le prenotazioni, oggi al via in città a Pesaro, quindi Fano e Urbino domande e risposte, ecco tutto ciò che c'è da sapere per gli anziani familiari oltre alla tessera sanitaria, attenzione per chi deve andare a fare il vaccino tra poco meglio compilare le varie schede, il Carlino ricorda anche quali sono portare quindi la tessera sanitaria, poi scaricarsi dal sito tutta la scheda anamnestetica che serve per vedere quali sono le patologie, la vostra scheda di salute il modulo del consenso informato è quello del trattamento dei dati ecco tutte quelle cose che servono anche perché bisogna andare veloci, cercare di fare tutta questa operazione nel giro di 15 minuti a persona, non si può stare molto di più se tutto poi è a posto, una volta fatto questa puntura bisognerà aspettare qualche tempo per il richiamo che avverrà dopo 21 o 28 giorni a seconda del vaccino inoculato i vaccini a disposizione sono due, chiaramente uno ognuno ne farà uno, però sono due quelli a disposizione il vaccino Pfizer-BioNTech e poi quello di Moderna quindi nella nostra provincia saranno questi i vaccini detto questo, abbiamo detto che sono 15.000 gli anziani over 80 che si sono prenotati a fronte di 22.000 posti e qualcosa 22.174 posti disponibili quindi circa il 70% della popolazione di tale classe di età ha deciso di fare questo vaccino andiamo sull'altra pagina, la pagina di Fano tosse e febbre il vescovo in ospedale il titolo d'apertura pareva stare meglio ma i sintomi e la persistenza della positività al tampone hanno consigliato il ricovero ma in via preventiva al San Salvatore il vescovo sta bene, c'ha soltanto un po' di tosse un po' affaticato, chiaramente però come dice anche Don Marco Presciutti il vicario ieri pomeriggio che ha voluto rassicurare un po' tutti quanti mandando sms a destra e manca ai preti a quanti chiedevano informazioni Don Marco, scrive la Petrelli sul giornale di questa mattina ha risposto a tutti dicendo oggi pomeriggio ho riparlato con il vescovo perché stamattina è stato controllato dai medici che lo seguono con grande cura gli hanno fatto una radiografia al seguito della quale hanno consigliato un breve ricovero in ospedale in modo da sottoporlo ad una terapia più solida e mirata sono invece migliorate le condizioni del suo segretario particolare Don Luca Santini che era risultato positivo già da qualche settimana è ufficialmente guarito perché il secondo tampone di Don Luca è risultato negativo sotto invece sempre dalla pagina di Fano del Carlino over 80 si parte oggi alle 8 vaccino è tutto pronto al Codma 360 dosi solo per il primo giorno luogo strategico il Codma di Rosciano anche per la disponibilità dei parcheggi poi dal 12 di marzo al via i richiami il vaccino dice e spiega Carlotti è vissuto un po' come una via d'uscita a questa malattia mentre nel caso dello screening quello di massa scatava un po' anche la paura della positività e del conseguente isolamento terminata la prima fase della vaccinazione dal 12 marzo si parte poi con i richiami e a frontone boom di contagi screening nelle scuole su una popolazione di 1200 abitanti positivi sono 45 81 in quarantena il sindaco dice non ci sono situazioni gravi continuiamo dunque a monitorare ancora i contagi si alzano purtroppo anche su tutto in tutto il senigalliese Senigallia è una città vicina a Fano quindi nella città della spiaggia di Velluti i positivi sono arrivati a 242 contro i 188 della settimana scorsa migliorano la situazione dei focolai però davvero bisogna fare attenzione quindi spostarsi il meno possibile il report della regione anche se siamo in zona gialla torniamo alle famose tre parole di quella frase il comportamento di ciascuno di noi è fondamentale il che non significa che se siamo in zona gialla possiamo fare quello che ci pare cerchiamo di arginare e quindi fare come se fossimo in zona rossa il report della regione mostra come gli infetti abbiano toccato quota 400 sempre nel senigallese 46 casi in più rispetto a venerdì scorso qui i contagi invece sono diminuiti del 30% dice il sindaco di Vallefoglia Palmiro Occhielli nel comune in tre settimane i contagi sono diminuiti di un terzo in quarantena ci sono 80 persone positivi stabili a 52 Occhielli ringrazia intanto apre lo sportello Aspes per pagare l'Imu la Tasi e la Tari mentre sulla maturità che abbiamo visto sarà senza gli iscritti le prove scritte studenti penalizzati dirigenti divisi dopo l'annuncio del nuovo ministro Bianchi Rossini dice scelta inopportuna Gennari serve almeno una prova pratica Lisotti l'anno scorso però è andata bene addio a Don Ennio Grandoni per 64 anni parroco a Dorciano si è spento a 91 anni e mezzo 52 dei quali passati nella chiesa del capoluogo aveva scelto di stare nella struttura del paese e tanti davvero ieri hanno ricordato lasciando un pensiero l'umiltà di questa persona l'umiltà infatti come imperativo tanto da scrivere un libro ho un cognome che non mi si addice dice appunto Grandoni mentre dalla comunità di Colli al Metauro o meglio Calcinelli di Colli al Metauro la notizia è che il Vescovo Trasarti ha nominato come amministratore della parrocchia Santa Croce di Calcinelli che il 25 gennaio scorso ha perso il suo parroco Don Giuseppe Monaco stroncato dal Covid a 72 anni Don Luciano Gattei ecco la fotografia qua in alto Don Luciano Gattei titolare della parrocchia Regina della Pace San Michele al Fiume Mondavio Don Luciano aiutato anche dai sacerdoti della Vicaria 2 Metauro che raggruppa 17 parrocchie dislocate tra la media Vallata del Metauro e quella del Cesano sarà il responsabile dei servizi della comunità di Calcinelli in attesa che dopo l'estate venga nominato il nuovo parroco siamo sulla pagina di Fano ancora del Corriere Adriatico la rinascita dopo il Covid con la forza della ragione con le parole giuste comune e magistrati su educazione, verità, identità e lavoro si parla di una rassegna una rassegna che festeggia i 10 anni di attività e che si tiene a Fano poi sempre da Fano fibra ottica Team Invest 6 milioni e 200 mila euro lavori già avviati conclusione del 2023 con il collegamento di 21 mila unità immobiliari sottraevano invece la corrente elettrica per coltivare marijuana in serra a Pesaro scoperti dalla polizia lacci illegali alla rete nel casolare di campagna Cattabrighe due persone sono finite nei guai al piano terra capre e galline sopra invece le piantine denunciati anche per occupazione abusiva tolto il sussidio del reddito di cittadinanza di cui beneficiava uno degli arrestati la barca si rovescia sempre a Pesaro di portista rischia l'ipotermia il velista settantenne stato soccorso dalla guardia costiera nelle acque di Baia Flaminia è un velista di settant'anni di Pesaro di portista esperto che ieri però ha rischiato molto dopo essere caduto nelle acque dell'Adriatico che di questa stagione hanno una temperatura attorno ai 10 gradi e che in pochi minuti ha rischiato appunto l'ipotermia ancora da Fano la pagina del Corriere ha approvato il bilancio delle incognite in pari recupero tasse e minore tari continuano gli effetti contabili del Covid nel fondo crediti di dubbia esigibilità accantonati 16 milioni di euro stiamo parlando ovviamente del bilancio del Comune di Fano sotto invece Covid il vescovo ricoverato a scopo precauzionale sempre da Fano si parla di tecnologia 5G per i cittadini dati e salvaguardia sanitaria l'impegno assunto dal Comune con una mozione della lista noi giovani la Giunta dovrà fornire informazioni e vigilare sugli aspetti della salute oltre naturalmente a quelli tecnici mentre da Fossombrone contagiati alla scuola media il Sindaco Bonci dice non la chiudo informa su docenti positivi e classi in quarantena e dice il Sindaco abbiamo rispettato tutte le direttive tutte le norme intanto sempre da Fano obiettivo casellino la regione supera l'inerzia di 4 anni Autostrade per l'Italia si impegna per un tavolo tecnico la convenzione stima l'opera 14 milioni di euro la politica invece dal Carlino emorragia di voti in pochi anni il PD sempre fanese è un partito da ricostruire dobbiamo metterci al centro di un più vasto esperimento nuovi rapporti con la società civile parla il documento di futuro democratico area alternativa Minardi e poi c'è un nuovo raggruppamento fondato da Calenda Fano in azione Nascita ufficiale e Marchegiani è il suo referente dunque da Urbino schieti senza medico e ambulatorio noi informati con colpevole ritardo lettera dei residenti parecchi assistiti dal dottor Rossi hanno già chiesto di cambiare complicando la situazione e poi ancora da Urbino invece Urbino 2 che è un quartiere non tra i migliori nel senso che viene descritto come una delle più degradate aree della regione una zona che ha necessità da ormai troppi anni di una riqualificazione per garantire un luogo idoneo a chi vive ebbene così Urbino Urbino 2 tornerà a vivere questo è il titolo ecco il progetto del sindaco Gambini che parla di riqualificazione campi da gioco e anche illuminazione la speranza è quello di finire i lavori entro il 2024 intanto da Senigallia il Carlino sulle mura cadute cedute anzi a Corinaldo chiuso il centro è arrivato da Arezzo il mezzo per demolire la casa pericolante il sindaco dice interveniamo subito una volta messo in sicurezza il patrimonio artistico ricostruiremo subito anche il parcheggio Cellini un'opera innovativa per tutta la città adottata la formula più lasci la macchina meno paghi Romano dice tariffe agevolate per rendere più comodo l'arrivo a Senigallia e chiudiamo la pagina della nostra segna stampa con questa notizia che sta tenendo banco un po' sulle cronache sull'edizione anconetana del resto del Carlino perché andiamo a vedere questa fotografia allora facciamo un quiz facciamo un gioco che cosa vedete in questa immagine in questa fotografia ecco vi lascio qualche secondo per ah vabbè avete visto il titolo non vale più niente sesso facevamo solo finta va bene allora andiamo avanti sembra la stessa coppia sempre la stessa coppia protagonista si difende il 19enne allora che cosa è successo andiamo con ordine c'è questo video un video hot diciamo così ma che poi il video hot fa ridere non è un video hot che sono stati girati nella città di Iesi pare sono dei video che ritraggono questa coppietta lei appena diciottenne lui 19 anni che sembrano fare sesso sembrano fare in realtà non fanno niente simulano fare fare sesso questi video girati in due occasioni diverse questo in particolare a cui si riferisce il fotogramma che vedete nella fotografia lo hanno girato un gruppetto di ragazzine fuori da un centro commerciale e capite bene che insomma Iesi non è una metropoli quindi ci vuole poco perché questo video arrivi nel telefonino del protagonista o dei protagonisti e così è stato e adesso questa persona questo ragazzo di 19 anni si difende dicendo guardate che non stavamo facendo quello che pensate voi noi eravamo completamente vestiti anche perché ci vuole del coraggio oltretutto lascia pure che uno sia focoso e che abbia chissà che cosa in corpo ma spogliarsi in mezzo alla neve non è poi il massimo quindi erano semplicemente vestiti uno sopra l'altro come si fa tra ragazzini e giovanissimi quando si vuole stare insieme qui ecco allora che cosa è successo è successo che lui intervistato poi dal giornale da Sara Ferreri che cosa risponde me l'ho segnato eccolo qua questo giovane studente eccolo qua questo giovane studente respinge ogni accusa di esibizionismo eppure soprattutto il primo video di 5 minuti e 11 secondi di ripetuti ampi movimenti eccetera eccetera tutti i particolari ve li risparmio dice noi non stavamo facendo nulla di che anzi eravamo completamente vestiti dice ed è stata una sorta di simulazione io vorrei fare tanto l'amore con lei ma lei proviene da una famiglia molto cattolica e severa ed è propensa per aspettare il giovane studente quindi respinge tutte le accuse ora con questo che serve al di là del gossip che a noi non ci interessa ma al di là di tutto serve un po' per riflettere su quello che è accaduto e riflettere su quello che è il modo di agire pensare dei nostri giovani e con questo noi ci solitiamo qui avete cinque minuti per riflettere poi l'altra mezz'ora invece per pregare con la Santa Messa in diretta da Loreto alle 7.30 poi a proposito di preghiere vi ricordo che questa sera alle ore 21 sempre da Loreto avremo il rosario e la processione eucaristica sempre dalla Santa Casa di Loreto e poi domenica domani Santa Messa in diretta dalla Chiesa Maria Immacolata di Tavernelle provincia di Pesaro e Urbino inizio alle ore 11 grazie per averci seguito 7 per occhio questa sera come sempre alle 20.30 faremo anche una vi diremo anche come è andata questa giornata di vaccini quindi seguitici alle 20.30 noi ci rivediamo lunedì mattina invece alle 7 puntuali per la rassegna stampa trascorrete un buon fine settimana e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti